La Fondazione Amedeo Modigliani per la prima volta a Napoli nel salotto letterario lezzifere a Palazzo de Sangro, nel cuore del centro antico della città, il presidente Fabrizio Checchi è voluto essere in città per incontrare il critico d'arte Roberto Nicolucci, docente di storia dell'arte moderna all'Università degli Studi Guillermo Marconi, che entra a far parte del comitato scientifico della Fondazione dedicata al grande artista. Crediamo nella necessità di un nuovo modo di proporre e concepire l'arte, queste le parole di Fabrizio Checchi. Ci sono dei progetti in corso col professor Nicolucci che stiamo sviluppando in maniera innovativa, quindi sulla ricerca dei falsi di Modigliani, sulla tutela della vita e dell'opera di Amedeo Modigliani. Questa è una grande occasione per la Fondazione di aprire anche una collaborazione attiva con un hub culturale qui a Napoli. Soddisfatto il critico d'arte Nicolucci che ai nostri microfoni precisa. La collaborazione con la Fondazione Amedeo Modigliani mi consentirà di affrontare l'arte con una visione moderna, ma sempre con un occhio rivolto al passato, per comprendere davvero il presente e costruire insieme il futuro dell'arte. Un'arte che sempre di più è fatta di contaminazioni, nelle quali però è difficile voler vedere, identificare quelli che sono le espressioni visive della pittura e della scultura più tradizionale. Quindi per me entrare a far parte del comitato scientifico della Fondazione Amedeo Modigliani è un grande onore, oltre che una grande responsabilità.